Amici di Pontina, Umbri che ci avete raggiunto in questo magnifico prato, grazie per avere votato Lega Nord e avere dato con i vostri 50.000 voti una svolta democratica di opposizione seria in Umbria. Per la prima volta in Umbria ci sono due consiglieri regionali, Emanuele Fiorini, eletto a Terni, e Valerio Mancini che ci sta raggiungendo col pullman da Perugia. E' stata una rivoluzione democratica, quella che Matteo Ciasalvini ci ha portato in Umbria, dando a tutti gli Umbri una possibilità, quello di mettere la ruspa nell'urna e spazzare via con le false cooperative di sinistra che da troppo tempo tengono vincolata la libertà di questo grande popolo. Ma noi non ci fermiamo a queste elezioni, vogliamo portare il vento di Pontida, il vento della Lega, quello del cambiamento e della libertà in tutti i comuni dell'Umbria. E allora vi chiedo, con un grande applauso di questo Prato, di dare un grosso ringraziamento a tutti i sostenitori umbri e a Matteo Salvini che ha aperto la strada della libertà anche in questa bellissima regione. Grazie e faremo ancora tante battaglie assieme con le nostre ruspe democratiche, perché votare Lega anche in Umbria significa libertà! Grazie a tutti i nostri sostenitori umbri e a Matteo Salvini che ha aperto la strada della